P-dop-dop-dop-dop-dop P-dop-dop-dop Lei, lascia il minuto Ok, ragà, ha capito Questo qua Ha capito Ragazzi, ha capito Ragazzi, ha capito Ragazzi, ha capito Ha capito 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 ha capito 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 questo ha capito ha capito come si gioca ha capito che dobbiamo essere in team ragazzi abbiamo trovato lui non so come ti chiami non so madonna raga madonna raga madonna raga madonna raga madonna raga c'è Thanos lì con 182 hp ragazzi abbiamo madonna 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 fermi fermi tutti fermi tutti c'è Thanos lì o mio raga aiuto raga non so che cazzo fare raga siamo abbiate vi siete madonna quanti cazzo iscritti raga vi state scrivendo in troppi aiuto io volevo caricare un video oggi stasera raga 10 a capitanos mettiamo la musica epica è il momento è il momento è il momento di timmare con questo qua è il momento di timmare è il momento di timmare non so se di fotterlo quello ma purtroppo 800 di ping e non so se sia ti prego amico mi ragazzi l'ha visto ma raga ho vinto ho vinto ho vinto come cazzo ha fatto oddio che cazzo è successo no 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 oddio no raga ho vinto col cespuglio senza sparare nella Thanos mod che cazzo mi sa che sono il primo al mondo cosa no raga oh mio dio quanti spettatori siamo no raga sto tremando 8.000 spettatori raga che cazzo che cazzo oddio oddio porca troia no raga sono sono il primo no raga oddio salvatevi sta clip ragazzi salvatevi sta clip è esplosa la chat no raga è incredibile oh mio dio ragazzi sto leggendo i commenti assù no raga io non ci credo io non ci credo no raga io non ci credo ci abbiamo vinto da cespugli no no assù no raga mi sto sentendo male no raga mi sto sentendo male esplosa la chat sto leggendo i commenti raga non si vede più nulla state commentando troppo no raga allora per favore qualcuno di voi salvi la clip salvi sta clip perché mi sa che siamo i primi al mondo ad aver fatto una roba del genere non vorrei dire una cazzata se c'è qualcuno che ha fatto una roba del genere non so se c'è qualcuno che abbia mai fatto una cosa del genere